Non si ferma la diaspora romana del partito di Salvini alla corte di Meloni approdano due storici consiglieri municipali. La Lega a Roma, è come un meteorite che lascia cadere frammenti che ricadono su fratelli d'Italia andando a ingrossare le fila del partito di Giorgia Meloni. E dopo il senatore De Vecchisi alcuni consiglieri provinciali divisi tra i talexit e fratelli d'Italia, ora è la volta della consigliera regionale Laura Corrotti. La fuga dal partito di Matteo Salvini non si ferma. Perché con la giovane Laura Corrotti consigliera regionale, se ne vanno anche due pezzi da 90, dei municipi. Roberto Santoro, ex candidato presidente in Ivi Municipio e Fabrizio Bevilacqua. Punto di riferimento dai tempi di MSI nel terzo municipio. E ora che la diga è aperta chi ci guadagna è sempre solo fratelli d'Italia con il capogruppo in regione Lazio Fabrizio Ghera che si frega le mani nel corso delle presentazioni del cambio di casacca. Di Santoro che, senza mezzi termini, dice di se per me è un ritorno a casa, sono nato di destra e morirò di destra. La squadra di FDI qui è giovanissima e per me è un piacere avere un gruppo di questo tipo. Sto facendo un buon lavoro in questo territorio e continuerò così per poi passare il testimone a loro quando smetterò. Grazie a tutti!